Ciao a tutti, sono Ernestina Dalla Cortelluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenza della mitica. Oggi vi presento una eccellenza storica di questo territorio e che risale a quasi mille anni fa. È un santuario in cima a un bellissimo monte del Feltrino che scopriremo tra poco. Questo santuario custodisce i resti di due santi molto cari per il territorio. Una di loro è una santa che viene considerata protettrice contro le peste e le pandemie e giustamente porta il nome di Corona. Oggi parleremo del santuario dei martiri Santi Vittore e Corona a Feltre. Questi santi del II secolo d.C., martiri entrambi, ripossano in un santuario a loro dedicato in un monte che si trova vicino al confine tra Belluno e Treviso. Sono i protettori della città di Feltre e vengono ricordati il 14 maggio, festa dei santi martiri Vittore e Corona. Entrambi hanno una storia molto interessante quanto tragica. Ma entriamo adesso nel mondo delle leggende antiche dove scopriremo una leggenda molto speciale che racconta come furono i propri santi martiri Vittore e Corona a scegliere quel posto preciso in un modo miracoloso dove poi si costruirà il monastero Basilica Santuario. È situato a pochi chilometri da Feltre sulle pendici dell'Alto e bello Monte Miesta, a strapiombo di una roccia dirupata da dove abbiamo una vista panoramica stupenda della località di Anzu. Di fronte alle bellissime vette delle dolmiti Faltrine, l'ecolocazione del santuario è particolarmente suggestiva. Questo santuario è considerato l'ultimo edificio romanico ancora intatto della provincia di Belluno e data la sua posizione strategica diventa un simbolo dell'unione tra Belluno e Treviso. Andiamo prima alla scoperta di chi sono stati i santi Vittore e Corona, oggi patroni di Feltre e di altre città del Veneto e dell'Italia. Troviamo alcune informazioni nell'illustre certamen, il quale è stato un testo redato da un diacono della chiesa di Antiochia nel IV secolo. Secondo questo scritto Vittore era un soldato cristiano proveniente dalla Cilicia. Durante la persecuzione ai cristiani da parte di Marco Aurelio, intorno al 170 d.C., è stato denunciato e sottoposto a torture. Vittore era convinto della sua fede cristiana e, sopportando con coraggio il dolore, riuscirà a convertire la sposa di un suo compagno d'armi. Lei si chiamava Corona, che secondo gli studiosi è l'equivalente latino del nome Stefania. Corona non aveva ancora 16 anni e dichiarò di essere cristiana anche lei. inizia a pregare per il suo amico Vittore e per questo venne non solo arrestata, ma martirizzata in modo atroce. Corona sarà sottoposta a un interrogatorio da parte delle autorità romane, dopo il quale muore in un modo molto doloroso. Fu legata per i piedi, alla cima di due palme piegate che, raddrizzando, ne causarono lo squartamento. Invece Vittore è stato decapitato e morirà anche lui per la sua fede. Gli studiosi non sono ancora d'accordo in merito alla data o al luogo preciso della loro morte, entrambi martirizzati insieme. Ma secondo il martirologio romano, li commemora il 14 maggio e riporta solo che la morte è avvenuta in Siria. I resti sono portati a Feltre dei crociati che tornavano giustamente dalla Siria. I resti e le reliquie dei santi sono stati da sempre oggetti molto pregiati per i fedeli e per diversi motivi. Nel viaggio dalla Siria fino a Feltre sono rimasti per un lungo periodo a Venezia, come una volta l'avevano fatto i resti di San Marco, patrono di Venezia e del Veneto. Ma quel luogo a Feltre non è stata una destinazione scelta dei crociati? Ci racconta la leggenda che furono, in qualche modo, i propri santi a decidere dove riposare finalmente in questa bellissima e antica città in provincia di Beluno. Feltre, questa importante città, può rintracciare le sue origini prima dagli Etruschi e divenne importante municipio romano a partire dal II secolo a.C. Grazie alla sua posizione geografica, fa uno strategico snodo economico e militare lungo la strada Claudia Augusta Altinate, la quale mette in collegamento l'Adriatico, il Po con l'area denubiana. La storia che si racconta da generazione in generazione è che quando il carro che trasportava le spuole dei santi martiri arriva alle falde del Monte Miesna, vicino a Feltre, accade un fatto straordinario. I cavali che trainavano il carro si rifiutano di procedere, cercano in ogni modo di spostare il carro, però a nulla valgono gli incitamenti già che le ruote sembravano inchiodate sulla strada, quasi fisse. Decise di andare davanti, si cambiano i cavali, pure il vescovo chiede alla gente del posto di pregare per poter risolvere questo problema. Tutti gli sforzi diventano inutili, il carro rimane immobile. Ma racconta la leggenda che nella notte San Vittore, vestito da soldato, sfolgorante di luce, appare ad un'umile donna di Ansù a chi indica di attaccare al carro le sue due baccherelle e di lasciarle libere su per la costa. Sarà così che il mattino dopo, per sorprese dei conducenti, gli animali attaccati al carro vanno verso lo spiazzo designato dalla visione, dove sorse poi il santuario creato per accogliere le reliquie dei martiri Vittore Corona. I santi protettori sono stati venerati già da quasi mille anni, ma più recentemente hanno attirato l'attenzione di milioni di fedeli di tutto il mondo, già che Santa Corona è anche la protettrice contro le pandemie. Il suo nome ci fa pensare subito a una pandemia che ci colpisce duramente da fine 2019, il coronavirus. Nella cattedrale di Aquisgrane viene venerata e riconosciuta non solo come protettrice contro le pandemie. I suoi devoti pregano alle reliquie custodite all'interno della cattedrale, come fanno i fedeli della Basilica Monastero a Feltre. A questo bellissimo santuario con tratti orientali, di stile romanico, con affreschi della scuola di Giotto e imponente sculture lì sul Monte Miasta, meritano un'intera puntata nella quale parleremo di questa imperdibile eccellenza dolomitica. Ma Santa Corona, come abbiamo ricordato oggi su Radio VN Voce delle Dolomiti, ha profonde radici nella storia antica ed era già venerata prima dal coronavirus. La grande devozione popolare intorno ai Santi e il santuario sono presenti ancora oggi nei migliaia di fedeli e turisti che visitano questo posto unico in cima al Monte Miasta. Da visite all'interno della Basilica, celebrazioni di matrimonio fino a attività all'aria aperta come escursioni, sono tutte ottime opportunità per godersi questo patrimonio storico, religioso, naturale e culturale. La storia di vita di questi martiri rappresenta per la Chiesa Cattolica un chiaro esempio di come la testimonianza di un Dio che si fa prossimo ai sofferenti e ai moribondi anche quando appare perduto, come ha fatto la Corona con Vittore prima di morire torturati. Allora, cari ascoltatori di Ernestina, dalla fine del mondo non ci resta altro che chiedere a Santa Corona per la fine di questa terribile pandemia. Speriamo che questi tempi difficili possano finire più presto. Inviamo i nostri auguri di buono nomastico a tutti quali che portano il nome di Vittore, Corona e Stefania. Cari amici, oggi la nostra puntata finisce qui. Vi aspetto la prossima settimana. Se volete rivedere le nostre puntate potete cercarmi nelle reti sociali dell'associazione per l'unnessi nel mondo e anche sui miei social di Facebook e Instagram con il mio nome Ernestina dalla Corte Lucio o anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto. Intanto vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e come dice il nostro motto, vicine e lontani, mai soli. Ringraziamo Inazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.